Sono nove i casi positivi che mi sono stati comunicati dall'ASL, Dipartimento di Prevenzione, maturati negli ultimi giorni. Tra questi c'è anche un alunno frequentante la scuola per l'infanzia a Mozzillo, così il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, nel report serale dei contagi da Covid-19. Per questo motivo, continua Coppola, in accordo con la dirigente scolastica, ho disposto tramite ordinanza alla sospensione delle attività didattiche in presenza per la giornata di oggi, 13 maggio, al fine di permettere gli interventi di sanificazione. Ci sono state anche 14 guarigioni, sottolinea il dato attuale di positivi scende quindi a 37, mentre sale a 357 quello dei guariti. Oggi sono stati somministrati in oltre 263 vaccini presso il centro vaccinale Covid-19 città di Agropoli. Registrano un contagio da Covid-19 anche i comuni di Capaccio Pestum e di Castellabate.